Diego Cosner dopo tre anni l'Ambri torna a vincere a Lausanna, grandissima prestazione questa sera. Sì esatto, ci ha detto stamattina Luca che nel 2015 non vincevamo contro Lausanna fuori casa, però penso che oggi abbiamo dimostrato un'ottima partita, anche se in certi casi abbiamo sofferto un po', però un grande Benji ci ha tenuto sempre in partita e poi nel terzo tempo con un power play siamo riusciti a segnare il 2-1. Siete stati anche molto scaltri, secondo tempo un grande cons, però voi davanti le occasioni le avete sfruttate e questo power play continua a funzionare che è una meraviglia. Sì esatto, penso soprattutto i special teams sono importantissimi al giorno d'oggi per vincere le partite. Come power play sta funzionando molto bene, però anche il box play ne avevamo un paio oggi, però penso che abbiamo fatto un grande lavoro anche lì. L'ultima domanda, che effetto ti ha fatto giocare contro Corey Emerton? Magari vi siete detti qualcosa prima o magari adesso dopo la partita? Come l'hai visto? L'ho visto bene, durante la partita sinceramente non abbiamo parlato molto. Ognuno alla fine è concentrato sul suo lavoro, però alla fine partita ci siamo salutati, gli avevamo detto buona fortuna e niente. Grazie mille, complimenti ancora Diego. Grazie mille.